Ed eccoci qui al MEI con gli Ischemical, ciao ragazzi come va? Ciao, ciao, tutto bene Vi siete appena esibiti proprio qui al MEI, giusto? Sì, sì, sì Com'è andata l'esibizione? Andata bene Avete portato diciamo un pezzo del vostro primo album, appunto del titolo Ischemical Esatto, esatto, abbiamo suonato, no, no, ben tre brani in acustico del nostro album Abbiamo suonato, diciamo, quelli che, essendo noi una band alterna tipo Il nostro album è concentrato in queste sonorità belle e forti E facciamo il settore di questa serena, perché non è possibile Abbiamo scelto i brani che si prestavano più per l'esibizione, diciamo, a Carlo Scobbe Abbiamo suonato quindi il nostro singolo di uscita, appunto il singolo di lancio, il nuovo inizio Abbiamo suonato, nel giorno, la ricerca, che è l'ultima parte del disco E appunto, com'è nato il disco Ischemical? Allora, il disco Ischemical nasce dall'esigenza comune di mettere in musica quelle che sono molte delle tematiche sociali, insomma, che vediamo tutti i giorni Quindi abbiamo portato avanti questa causa e fino, diciamo, dopo un paio d'anni di lavoro Ci siamo riusciti a uscire pure con questo disco e a mettere appunto le nostre idee sulle tematiche e sull'alternative rock, che è quello che ci piace E appunto avete anche magari un brano al quale che preferite di questo album oppure no? Guarda, in sostanza io direi che dell'album ci piace un po' tutto Anzi, ci piace tutto Quindi, senza dubbio, il singolo di lancio dell'album è quello che è stato, tra i grani è stato scelto pure perché è un po' più quello sentito nella fase di uscita Quindi si sa che il musicista e il compositore si immedesima nella musica che suona e in quello che scrive Quindi di conseguenza ci si associa di più, diciamo, ci si sposta un po' più da un lato o dall'altro Quindi quello è stato il brano, sicuramente in quella fase è più sentito Però del resto noi crediamo di aver fatto un ottimo lavoro un po' su tutti i grani E appunto il disco Ischemical dove si può trovare e acquistare? Il disco Ischemical si può acquistare su quasi tutte le piattaforme di istituzione digitale La Dizia, la Spotify, si trova dappertutto Per acquistare le copie fisiche basta, non so, mandare un messaggio sulla nostra pagina Ischemical Appunto Ischemical Official oppure contattateci su Instagram, su tutti i social dove siamo presenti E vi mandiamo una bella copia fisica di Sportacent Beh dai, grazie mille, alla prossima Grazie a tutti Ciao